E' ovvio che tutti i ragazzi che devono affrontare l'esame di guida lo vogliono iniziare nel miglior modo possibile e per farlo occorre eseguire tutto da quando si entra in macchina nel modo corretto e possibilmente nell'ordine corretto. In questo video ti spiego quali sono le cose da fare nel giusto ordine prima di accendere il motore. Iniziamo! La prima cosa da fare appena si sale in macchina è ovviamente quella di regolarsi il posto di guida sistemando correttamente il sedile, il volante e poi gli specchietti. Ho già spiegato come farlo in altri video se non li hai ancora visti ti lascio il link qui sotto in descrizione ma per vederli puoi semplicemente cliccare sulla i qui in alto a destra. Una volta sistemato tutto quanto dovremmo accendere il motore. Ma siamo sicuri di poter girare direttamente la chiave di accensione o premere il pulsante di avviamento senza prima aver fatto nient'altro? La risposta ovviamente è no! Ci saranno delle cose che sarà indispensabile fare prima di accendere il motore e delle cose che sarà semplicemente consigliabile fare prima per non rischiare di sbagliare qualcosa. Volendo riassumerle le cose da fare prima di accendere il motore sono fondamentalmente quattro e due le faremo con i piedi mentre due le faremo con le mani. La prima cosa da fare sarà quella di abbassare del tutto il pedale della frizione in modo da non avere problemi nell'avviamento anche qualora dovessimo aver lasciato una marcia qualunque inserita. Avviare il motore con la marcia inserita e la frizione ancora sollevata significa far fare un balzo in avanti alla macchina cosa che ovviamente sarà meglio evitare che succeda soprattutto se ci troviamo ad un esame di guida. Subito dopo aver premuto la frizione fino in fondo appoggeremo il piede destro sul pedale del freno premendolo leggermente in modo da essere certi che la macchina rimanga ferma quando andremo a togliere il freno di stazionamento soprattutto nel caso in cui la strada dovesse essere leggermente in pendenza. Come terza cosa sarà opportuno posizionare il cambio in folle principalmente perché qualora ci fossimo dimenticati di abbassare la frizione con il cambio posizionato in folle non succederà assolutamente niente di spiacevole avviando il motore e la macchina non farà il balzo di cui ho parlato poco fa. Come ultima cosa toglieremo il freno di stazionamento per non rischiare di dimenticarcelo successivamente e partire o meglio cercare di partire visto che probabilmente non ci riusciremo con il freno a mano ancora tirato. Delle quattro cose da fare appena elencate ovvero abbassare la frizione, premere il pedale del freno, posizionare il cambio in folle e togliere il freno di stazionamento quella realmente importante da fare prima di accendere il motore è essenzialmente una ovvero premere il pedale della frizione. Tutto il resto volendo si potrebbe fare anche dopo aver acceso il motore. Il freno a mano ad esempio potremmo toglierlo tranquillamente dopo aver avviato il motore ma saremo sicuri di ricordarci di farlo? Per non rischiare consiglio ovviamente di farlo prima di accendere il motore. Non sarà neanche strettamente necessario premere il pedale del freno prima dell'avviamento ma siamo sicuri che il veicolo rimarrà fermo una volta tolto il freno a mano e che invece non ce lo ritroveremo ad andare avanti o indietro a seconda della pendenza della strada? Volendo potremmo anche accendere il motore con la marcia inserita ma siamo sicuri che ci saremo ricordati di abbassare la frizione prima di farlo? Come già detto accendere il motore col pedale della frizione sollevato e la marcia inserita significa far fare un bel balzo in avanti al veicolo e l'esaminatore non ne sarebbe di sicuro molto felice. Quindi sarà meglio posizionare il cambio in folle prima dell'avviamento. Quindi per essere sicuri di non avere problemi nel momento in cui andremo ad avviare il motore le cose che ti suggerisco di fare sono queste. Come prima cosa premere il pedale della frizione fino in fondo e poi premere leggermente il pedale del freno per essere sicuri che il veicolo rimanga fermo anche una volta tolto il freno a mano. Poi posizioneremo il cambio in folle questo per non avere problemi qualora ci fossimo dimenticati di abbassare la frizione vedi il punto 1 e infine toglieremo il freno di stazionamento. Se hai fatto tutte queste quattro semplici cose e magari anche nell'ordine elencato potrai avviare il motore senza alcun tipo di inconveniente e iniziare quindi l'esame nel migliore dei modi. Prima di partire bisognerà ricordarsi ovviamente di inserire la prima marcia visto che non si può partire in folle, togliere la segnalazione luminosa di pericolo che comunemente viene chiamata quattro frecce ma che in realtà sarebbero sei ed inserire la freccia a sinistra qualora dovessimo partire dal margine destro o viceversa ovviamente per avvisare i veicoli in transito della nostra intenzione di metterci nel flusso della circolazione. A strada libera potremo finalmente partire ed iniziare come si deve il percorso di guida dell'esame. Una volta ultimato il se tutto sarà andato bene ci vedremo consegnare la tanto agognata patente. Finisce qui il video sulle cose da fare prima di avviare il motore. Ci vediamo presto con il prossimo video sempre qui sul canale guidare oggi con Andrea. Ciao!